Nel quartier generale reggiano di Banca Privata Leasing, in via Castaldi da Feltre a San Maurizio, in questi giorni si fa il bilancio sull'andamento del prodotto lanciato recentemente, conto deposito. È il direttore commerciale di Banca Privata Leasing, Mauro Pizzi, che, dati alla mano, può a questo punto esprimere un giudizio sulla raccolta. Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo la nostra campagna di offerta sui conti depositi. Riceviamo una media di 32 richieste al giorno di apertura di nuovi conti online, weekend compresi perché, ovviamente, essendo una procedura che può essere svolta autonomamente tramite il nostro sito, siamo operativi 7 giorni su 7, oltre alle normali aperture di conti correnti tradizionali. Dall'inizio di dicembre, quando è partita la campagna, siamo già arrivati a oltre 1.300 nuovi clienti e stimiamo di arrivare, entro il 31 gennaio, a 2.000 nuovi clienti e più che hanno acceso rapporti con Banca Privata Leasing. Ricordiamo le caratteristiche principali di questo servizio, di questo conto deposito. Allora, i conti deposito che noi offriamo sono di due tipologie. Possono essere attivati sia tramite l'offerta online, quindi un conto esclusivamente online, che invece con un conto corrente tradizionale. La prima tipologia prevede scadenze fino a 18 mesi con interessi anticipati e arriva a offrire un tasso del 2,50%. La seconda, invece, ha una durata più lunga per gli spamiatori che avessero un orizzonte temporale più ampio e quindi dura 48 mesi, 4 anni, con tassi crescenti che arrivano per l'ultima cedola semestrale al 3,50%. Perché questa seconda ipotesi, anziché interessi anticipati, è strutturata con una cedola semestrale. Ricordiamo quando scade la campagna in corso? La campagna in corso scade il 31 gennaio, anche se stiamo già ragionando di come proporre dal 1 febbraio delle nuove condizioni che saranno comunque molto vantaggiose, magari non esattamente identiche a quelle attuali. Quindi chi avesse la volontà di investire i propri risparmi in Banca Privata Leasing, potendo beneficiare delle condizioni che ho ricordato prima, deve affrettarsi perché siamo agli ultimi giorni. Abbiamo comunque deciso che per chi ci farà avere la documentazione sottoscritta e il bonifico di apertura del conto entro il 31 gennaio, lasceremo la possibilità fino al 9 febbraio di beneficiare delle condizioni attualmente in campagna. E il successo di questo contodeposito proposto da Banca Privata Leasing potrà avere risvolti positivi anche sul tessuto economico perché la raccolta verrà destinata alle richieste di finanziamento delle piccole e medie imprese. La somma raccolta che stimiamo essere, come stanno procedendo le cose, essere leggermente superiore ai 30 milioni di euro verrà utilizzata come da sempre, cioè dal 1987, data di costituzione di Banca Privata Leasing, la nostra società ha fatto, ovvero finanziando gli investimenti nell'economia locale a favore delle PMI che decideranno di acquistare nuove autovetture, macchinari o immobili che necessitano alla loro azienda. Quindi le aziende industriali e commerciali di Reggio Emilia che hanno da fare nuovi investimenti potranno farlo perché i 30 milioni di euro che stiamo raccogliendo li destineremo a nuove operazioni di leasing a favore delle PMI.